Musica Si è concluso dopo tre giornate di gare sui campi del Cavaliere Country Club ad Agnano il campionato regionale di salto ostacoli Campania 2014 della Federazione Italiana Sport Equestri con circa 200 binomi iscritti per salire sul podio di 14 categorie divise fra campionati assoluti, trofei e criterium Lo sport muove economia, è punto di aggregazione, rilancio della città, immagine, comunicazione, forza e poi noi abbiamo tanti spazi, molti si stanno anche aprendo recentemente e questo ci incoraggia molto e poi la risposta dei cittadini è sempre eccellente anche venendo qua ho visto tantissime persone, tantissime famiglie, tantissimi bambini è una bellissima realtà, segno di questa città piena di punti di riferimento per lo sport equestre, per i giovani, per chi vuole coltivare un hobby così bello uno sport, una pratica da condividere ed è bello vedere che questa è a Napoli in quest'area di Agnano che non è solo l'ippodromo ma anche un centro di equitazione di eccellenza come questo e ci tenevo a portare il mio saluto a premiare e a condividere questa iniziativa della Federazione Regionale ci sono tanti imprenditori napoletani, campani che stanno investendo in città, nell'area metropolitana e si è creato un rapporto di ottima sinergia tra il pubblico e il privato il resto quando i momenti sono difficili bisogna unire le forze e Napoli sta ripartendo proprio da qui